I carabinieri del nucleo e spettorato del lavoro di Lucca insieme ai militari del comando provinciale hanno scoperto 14 persone che percepivano sussidi e aiuti economici pur non avendone diritto. Si tratta per lo più di cittadini stranieri. Nello specifico i reati contestati di cui dovranno rispondere davanti al tribunale di Lucca sono omissioni nelle comunicazioni della variazione di reddito e false dichiarazioni per l'indebito ottenimento del reddito di cittadinanza. In totale i secondi militari avrebbero percepito indebitamente circa 100.000 euro. Gli accertamenti hanno consentito di scoprire una serie di raggiri messi in atto da 14 indagati che gli permettevano di incassare ogni mese dai 780 ai 1.330 euro a seconda che avessero i figli a carico o meno. Alcune delle persone finite nell'indagine peraltro erano già gravate da misure restrittive per altri reati.